Un'apertura avvenuta in una fase molto difficile a causa dell'emergenza sanitaria ed economica del 2020, ma che ha rappresentato un importante segnale di ottimismo e fiducia nel futuro. La Banca di Credito Cooperativo di Roma, infatti a Disernia, è stata inaugurata in piena pandemia da Covid-19, per ribadire anche nella regione molise la sua avvicinanza alle famiglie e alle piccole e medie imprese, proponendosi come punto di riferimento territoriale. È stata inaugurata il 5 novembre, quindi abbiamo qualche anno di esperie di vita sul territorio, siamo entrati nel Molise con la prima filiale, l'obiettivo è quello di espanderci e i numeri stanno andando molto bene. Siamo arrivati a 70 milioni di masse gestite in due anni, con circa 1.500 conti, 2.000 clienti, per cui non possiamo fare altro che continuare così, la banca ci sta dando fiducia, il territorio sta rispondendo, abbiamo convenzioni in essere, la prossima uscirà brevissimo con la fila Molise, per cui abbiamo la possibilità di continuare a fare nella regione Molise quello che le banche di livello nazionale probabilmente hanno più difficoltà a fare perché hanno una minore predisposizione ad ascoltare il cliente, ad ascoltare le esigenze delle famiglie e delle piccole imprese soprattutto. La Banca di Credito Cooperativo di Roma è la prima banca di credito cooperativo in Italia, fondata nel 1954 con il nome di Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Romano, opera anche nel Lazio, nell'Abruzzo Interno e nel Veneto. Ogni anno la banca eroga somme di denaro attraverso i comitati locali, a favore di iniziative di beneficenza e sponsorizzazione sociale. Queste risorse sono quindi destinate ad interventi di carattere morale, culturale, assistenziale, sportivo e di tutela dell'ambiente, con lo scopo di migliorare la qualità della vita dei cittadini delle comunità di riferimento.